Bentornati cari amici di Radio Pugginio NER, forse sto capendo perché Vittorio Sgarbi continuava sempre a dire in tv capra, capra, capra agli altri, probabilmente perché era consapevole che nessuno fosse a conoscenza di tutte queste presunte malefatte che ora stanno uscendo fuori, che se fossero ritenute vere dalla magistratura naturalmente vuol dire che per anni giornalisti, carabinieri, tutti i magistrati sono stati tutti delle capre. Perché tutto questo è uscito fuori solo ora? Ma è uscito fuori innanzitutto grazie alle scottanti inchieste del programma televisivo a noi molto noto della RAI Report. La trasmissione è tornata a far luce sul caso sconvolgente del sottosegretario e beni culturali Vittorio Sgarbi. Un titolo che si fa anche fatica a dire sottosegretario e beni culturali Vittorio Sgarbi. Fa anche stare un po' male dover dire sottosegretario e beni culturali Vittorio Sgarbi, ma lo facciamo per voi. Ne parliamo per voi qui a Radio Pugginio NER per raccontarvi cosa succede ogni giorno delle novità su questa intricata vicenda di Vittorio Sgarbi. Ci sono stati anche molti di voi che hanno commentato le nostre puntate, i nostri speciali, dicendo la propria opinione. Devo dire la maggior parte con molto rispetto e non è scontato perché la maggior parte, lo sappiamo benissimo, non hanno alcun rispetto per il prossimo. Intendendo naturalmente per prossimo in senso laico coloro che sono anche molto lontani, per gli esseri viventi, vicini e lontani, che è più giusto. Dunque pronti perché ci sono delle novità che ci ha portato o riportato Report stasera, oggi 14 gennaio 2024, questa domenica, con una puntata di nuovo speciale su Vittorio Sgarbi. E lo vediamo ora insieme. Vi invito soltanto un attimo ad iscrivervi al nostro canale YouTube Marco Puggini, se non l'avete ancora fatto nostro, perché ospita la nostra radio, Radio Puggini ONER. Il mio canale Marco Puggini ospita anche le mie canzoni e vi invito ad ascoltarle. Ma andiamo avanti e parliamo di questa disavventura del sottosegretario Vittorio Sgarbi che sembra non avere fine. La procura di Macerata ha aperto un'inchiesta su Sgarbi ipotizzando il reato di autoriciclaggio di opere d'arte. Tutto è nato dall'inchiesta condotta da Report e dal Fatto Quotidiano sulla cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, un'opera così intitolata dallo stesso Sgarbi, un'opera di proprietà del critico d'arte simile ad un dipinto trafugato nel 2013 a Torino. Il dipinto, esposto da Sgarbi nel 2021 a Lucca, è ora al centro dell'attenzione in una nuova puntata di Report. Poi conosciamo anche i fatti, come sono avvenuti e sono stati più complessi di come ve l'ho raccontata ora. Sappiamo benissimo che Sgarbi era stato a quel castello dal quale è stato rubato il quadro. Al posto del quadro è stata messa una foto. Abbiamo parlato di tutto e di più in questi giorni, andate a vedere le altre puntate. Ora andiamo avanti con le novità di Report. Perché la storia si complica. Sappiamo che Sgarbi cerca di bloccare la messa in onda della puntata che c'è stata questa sera, affermando che le notizie violate violino l'articolo 684 del codice penale e non rispettino le norme sul segreto istruttorio. Il sottosegretario, attraverso i suoi avvocati, invita e diffida la RAI dal trasmettere il filmato o il servizio riguardante il dipinto del Valentin de Boulogne e le notizie riservate pubblicate dal Fatto Quotidiano. E quindi esce fuori un'altra cosa oggi, un altro tassello di questa storia infinita. Ma cosa si cela dietro questa intricata vicenda? Il legame di Sgarbi fa riferimento ad un altro dipinto intitolato Concerto con Bevitore Che è molto carina questa cosa, Concerto con Bevitore Il titolo mi piace molto, interessante Attribuito a Valentin de Boulogne dal valore di 5 milioni di euro Pensate, 5 milioni di euro che non riesco nemmeno ad immaginarmi, sinceramente. Voi non lo so, ma fatemelo sapere nei commenti se avete mai avuto davanti agli occhi 5 milioni di euro O riuscite ad immaginarveli La procura di Imperia indaga su un presunto tentativo di esportazione illegale Coinvolgendo la compagna di Sgarbi Sabrina Colle E l'impresario d'arte Gianni Filippini I carabinieri sequestrano il quadro a giugno 2021 a Monte Carlo Partito proprio dalla casa di Sgarbi a Rò Ferrarese Sgarbi accusa Report di violare dunque il segreto istruttorio E chiede che la trasmissione non vada in onda Tuttavia le inchieste condotte da Report e dal Fatto Quotidiano hanno continuato a scuotere Le fondamenta di questa vicenda complicata, sempre più complessa Portando alla luce nuovi dettagli e testimonianze Oggi l'avvocato di Vittorio Sgarbi e Giampaolo Cicconi aveva inviato una diffida alla messa in onda del servizio Che era previsto per questa sera, poi è andato in onda Intitolato l'artificio sulla presunta esportazione illecita del Valentin de Boulogne Questo nuovo dipinto, quindi che è uscita fuori questa notizia Sequestrato a Monte Carlo nel 2021 addirittura Quindi una vicenda di cui Sgarbi era a conoscenza Non lo erano i cittadini di cui lui è sottosegretario Ma lui già lo era, per cui già un motivo in più per dimettersi Prima ancora di iniziare a farlo il sottosegretario Questo dipinto, diciamo, sequestrato a Monte Carlo Potrebbe valere milioni di euro E le telecamere della RAI hanno ottenuto l'autorizzazione A visionarlo insieme all'esperto, il professor Alessandro Bagnoli Il quale ha confermato la possibilità che si tratti di un autentico Valentin de Boulogne Dunque la puntata di report è andata in onda come programmato Mantenendo la sua funzione principale di controllo sulle condotte dei politici Incluso Sgarbi, attualmente indagato non solo per riciclaggio Ma anche per esportazione illecita di opere d'arte Continuate a seguirci su Radio Pugginio NER Per gli sviluppi di questa storia in continua evoluzione Abbiamo anche dedicato una puntata In cui a commentare i vostri commenti Sulla prima puntata in cui abbiamo iniziato a parlare di questo caso Quindi vi invito ancora a dirci la vostra nei commenti In modo tale che magari io possa leggerli nella puntata di domani O nei prossimi giorni e commentarli insieme a voi Se non lo avete fatto siete davvero pigri Vi invito di nuovo ad iscrivervi al mio canale YouTube Se invece siete nostri affezionati fan e sostenitori Vi invito a donarci un super grazie Questa nuova funzione di YouTube che trovate sotto al video Attraverso un super grazie potete sostenere la nostra radio Il mio canale YouTube Marco Puggini Ma anche e soprattutto la mia musica Che vi invito ad ascoltare Lo faccio sempre E anche a darmi dei feedback su ciò che ascoltate Sempre che le ascoltiate Le mie canzoni Se volete fatelo Se non lo fate vi perdete delle emozioni Che io ho urgenza di condividere con voi Vi auguro una buonanotte E ci riascoltiamo domani qui a Radio Puggini Onel